Ho deciso di candidarmi perché ho un forte legame d'amore con la mia terra. Voglio dare il mio contributo personale, le mie idee, il mio tempo a un territorio ricco di potenzialità. Ho due progetti per San Felice. Uno è volto al recupero e alla riqualificazione dello stabile di Via Benedetto Croce, destinato alla creazione di una ludoteca e biblioteca comunale, rendendo così il paese a misura di bambino. L'altro progetto è quello di inserire San Felice a Cancello nei cammini religiosi. Infatti con la legge di bilancio 2023 il Ministero del Turismo ha stanziato fondi per il rilancio, il recupero, la valorizzazione e la promozione turistica di tutti gli immobili pubblici presenti sul cammino religioso, fino ad arrivare a San Michele Arcangelo. Grazie. Grazie.